Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sulla FIPILE per lavori rampa di accesso chiusa in entrata a Livorno Porto in direzione Firenze. Rallentamenti tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia svincolo chiuso per lavori a Gavorrano in direzione Sud. Per lo stesso motivo è chiuso anche lo svincolo di Cecina Nord in entrambe le direzioni. Infine per i treni proclamato non sciopero del personale dalle 10 alle 14 di oggi e dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Muoversi in Toscana Inf è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!